Scoperta la truffa della carne, la Guardia di Finanza di Chieti ha scoperto il sistema di una società teatina fittizia tramite cui questa imbrogliava allevatori piemontesi. Secondo gli inquirenti era stata creata una società ad hoc, poi fatta fallire, priva di una propria autonomia finanziaria che era appositamente interposta tra i fornitori del Cunese e un'importante società pugliese del medesimo settore. Nel 2016, approfittando della fiducia dovuta al nome e alla caratura economica del colosso pugliese, i presunti truffatori sono riusciti a farsi consegnare dagli allevatori carne per un valore di circa 900 mila euro, dando però in cambio assegni senza alcuna copertura finanziaria. Durante un anno di indagini, gli investigatori hanno accertato che entrambe le sedi dichiarate dalla società sono inesistenti, mentre si sono dimostrati irreperibili l'amministratore e le scritture contabili e obbligatorie. Scoperto però il meccanismo di frode, l'autorità giudiziaria ha disposto misure coercitive per il rappresentante legale e l'amministratore delegato della società pugliese, che ora dovranno rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata, autoriciclaggio ed emissione di fattura per operazioni inesistenti. E' stato anche disposto il sequestro preventivo di circa 900 mila euro, ovvero il valore della merce non pagata dall'azienda fallita.